Musica Buongiorno e benvenuti in questo insieme video So che la location è un po' strana ma questa era la mia vecchia camera Che penso che riutilizzerò come stanza per i video Quindi vedete molto spesso questo panorama Che poi metterò un puffo qua sotto per sedermi Perché se no, ciao In questo video come ho detto dal titolo Sono tornata con un nuovo video in cui vi andrò a mostrare le mie cose creative Quindi nulla, a partire da ora lasciate tanti pollicini in su Perché sono soddisfatta E poi siete, scusate, mi siete 350 Quindi lasciate pollicini in su E ok E poi ragazzi volevo dirvi che Se volete scoprire chi sarà salutato oggi Proprio oggi Oggi, oggi, oggi Guardate tutto il video perché sennò vi meno Quindi nulla Guardate tutto il video per scoprire chi sarà salutato oggi Quindi nulla, vi lascio il video, un bacio Ciao Ok raga Le cose che stanno in camera mia creative Sono tutte dentro questo puff contenitore E dentro altri due contenitori Quindi appunto questo è il puff Prima di farvi vedere cosa è contenuto qua dentro Vi farò vedere cosa è contenuto nelle due scatoline che sono queste Ok, queste sono le mie due scatoline Allora, iniziamo da questa Allora, qui c'è una scopa che utilizzavo per mescolare Che in teoria dovrebbe stare di sotto perché ci facevo gli slime Ci sono tipo gli slime Questo per esempio è quello di Tiger Che si è, non so perché Guardate ragazzi, è diventato tipo acqua Però, vabbè, lo tengo comunque Questo qua che è quello che abbiamo modificato insieme Che vi apro un attimo Guardate E che è diventato veramente bellissimo raga Una cosa assurda Molto molto bello E non appiccica nemmeno E poi c'è anche questo qua Che raga, aspetta, vi metto così In modo che voi leggiate Che è appunto lo Schifidol Gummy Slime Proprio il primo E questo è diventato uno schifo praticamente C'è quello così fluo Arancione C'è pure quello giallo Solo che li ho mischiati insieme E si sono seccati Sono diventati uno schifo Poi c'è pure il pongo Che non so perché stia qua Perché il pongo in realtà Dovrebbe stare in quest'altra scatolina Però ok Ora andiamo a vedere cosa c'è qui dentro 3, 2, 1, via Allora Allora qui ci sono vari vari panetti di Di pongo Ma ci sono anche vari vari panetti di fimo Come avete visto Allora Appunto ho questo qua rosa Io ho preso questi qua Che penso che siano i migliori Della fimo Di fimo E della studler Guardate Sono questi qua E io ho preso questo colore Allora Se volete dei video In cui creiamo insieme Con il fimo Scrivetemelo qua sotto Perché lo vorrei fare Poi ho questo qua Che è un fimo Che ragazzi fa veramente schifo Sempre Della stessa marca Praticamente È durissimo Come un mattone Sentite Ecco Ecco E appunto Questo qua è veramente Durissimo E a differenza degli altri Quanto Lo provo a modellare Praticamente È È tutto Si sgretola tutto Però è È di questo colore Giallo Glitterato Si vedono i glitter Sì Ok Poi Ho questo qua Che è sempre La stessa marca Ed è questo colore Molto Molto Bello Ed è Veramente un panetto Stra Stra Fico Guardate che colore Bello Vivace Fico Poi raga Ho questo qua Sempre la stessa marca Che è un azzurro Non so se si vede Molto più scuro Guardate qua Ecco Allora Qua dice Anche Dove Come si deve cucinare Per quanti minuti Quindi Ok Poi ho questo qua Che è un azzurro pastello Stra Mitico Vi metto Tutte e tre a confronto In modo che vediate Guardate Questo è il più chiaro Il medio E il più scuro Ve li metto Tutte e tre a confronto Molto Molto fichi Poi Infine Ho Questo qua Che è un colore Tipo un arancione Vi faccio vedere E Perché È questo colore qua Perché Mi serviva Un colore Per fare la base Dei dolci Però non mi piaceva Il marrone Quindi ho preso Questo qua Poi Poi ragazzi Ci sono vari Panetti Di Pongo Oltre che Fimo Tipo ci sono Questi tre Che sono gli unici Che non ho aperto Sennò tipo C'è questo giallo Che ho aperto E ho messo Nella 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 pellicola Questo viola C'è questo qua Verde Scuro C'è questo qua Blu Molto scuro Guardate la differenza Tra questi E questo Poi c'è Questo qua Nero C'è questo qua Rosso C'è questo qua Marrone Scusatemi se vi ho fatto Perdere tempo Però questo era il contenuto Della scatolina Appunto Tutte ste robe qua Ok ragazzi Ora Passiamo a cosa c'è Qui dentro Allora innanzitutto Ci sono i miei tre Cuscinetti preferiti Ovvero Le mie tre Faccine preferite Ovvero Quella del diavoletto Quella Arrabbiato Rosso E questa qua Di cacchina Che carina Vi zoom L'occhio Basta E quindi C'è anche questa copertina Qua Non si sa perché Boh A caso E quindi nulla Andiamo a vedere Cosa c'è qua dentro Apriamo Wow Ecco qua Allora Fatemi dare Una bella inquadratura Qua Allora Un po' incasinato Ma un casino Organizzato Allora Innanzitutto Passiamo Partiamo da Questa Che è Questa ciotolina Qua All'interno Ho delle puntine Ho due scatole Di puntine Bianche Ragazzi Scusatemi se Traballo un po' Però va bene Due scatole Di puntine Bianche Queste qua Normali Classiche E una scatolina Di queste puntine Qua Che sono tutte Colorate Guardate qua Si vede bene Sono tutte Colorate Poi Poi Ho appunto Queste quattro Colline A caldo Tra cui Adesso ve le faccio vedere Sono due verdi Due nere E una gialla Fluorescente Si vede un sacco Nella telecamera Dal video Guardate qua Che bel giallo Poi ho Una colletta Qua glitterata Della Della Huhu Versione Natalizia Che ho trovato In giro Poi ho Uno spazzolino Che utilizzo Solamente per il fimo Per fare la texture Non ho fatte Molte creazioni Però Le cose Ce l'ho Per farle Un taglierino Che io utilizzo La parte più Che altro La parte dietro Per tagliare Un po' Il fimo Quindi Questo taglierino Questo era appunto Il contenuto Della nostra La scatolina Quindi andiamo Oltre Allora Prima di vedere Cosa c'è qui dentro Andiamo a vedere qua C'è uno stampo Che non so perché Stia qua Uno stampo così Fatto Molto Così Random Poi ho Appunto E C'è Ragazzi non è pubblicità La Apple Però mi piacevano Questi stickers Quindi Ci potevo fare anche Semi Ci potevo Devo fare una creazione Però non vi Spoiler o nulla La mia pistola Di colla a caldo Perché mia madre Ce ne aveva due E io ne ho presa una Per me Non si sa perché Quindi ora andiamo a vedere Cosa c'è qui dentro Allora Questa è la scatolina Che non so dove L'abbia presa Però è di legno In teoria era marrone Prima Però Poi l'ha dipinta Mia madre Quindi ok Non so dove L'abbia presa Mia madre Naturalmente Allora Come prima cosa Che mi capita È questa tinta Non so per cosa sia Però io la utilizzo Per qualsiasi cosa Questa qua È argento Poi c'è questa qua Che in teoria Sarebbe Oro Però Non so perché È sporca Di verde Non si sa perché Poi Abbiamo Vari vari glitter Che vi metto qua E poi vi faccio vedere Allora Questi sono tutti i glitter Che posseggo qua Allora C'è questi qua Che sono Tutte palline Ve le faccio vedere bene Aspettate Perché Ecco Ora è messo a fuoco Vedete che sono tutte palline Guardate Sarebbero per le unghie Però non ci piacciono A me e a mia madre Quindi le tengo qua Non si sa perché E appunto Ce l'ho Sono tutte uguali E le ho Oro Ragazzi Fatemi chiudere qua Perché sennò C'è un bordello Le ho Oro Le ho Rosse Che sono appunto queste Le ho Rosa Questo rosa Molto molto chiarino Poi Le ho Verdi E poi Le ho Colorate Guardate che belle Queste qua Colorate Poi ho Una scatolina Vuota Che mi potrebbe Sempre servire Quindi la tengo Poi appunto Raga Ho questi Tre glitterini Allora Il primo Il primo è questo Nero E sono tipo Delle stelline Ecco Ho messo a fuoco Sono delle stelline Nere Che andrebbero Messe sulle unghie Però ci vorrei fare Delle cosette Poi ci sono Dei Non so Non so se sono Trifogli O quadrifogli Sono Quadrifogli Ragazzi Ecco Se mettesse Un po' Fuoco Ecco ragazzi Ve li faccio Vedere Proprio Bene Ok Ragazzi Vi faccio Vedere pure Le stelline Bene Guardate Che belle Ora Poi c'è Anche Questi Sono Delle Delle Sono metà Sfera Praticamente E Basta Con i glitter Poi ho Appunto Il contenuto Di queste Sono Poi ho Questo qua Che sempre Se mi metto A fuoco Ecco Sono tipo Dei Fiorellini Verdi Fatti In Stoffa Guardate Che carini Che si usano Per Decorazione Ma io ci vorrei fare Anche degli slime Per vedere E infine C'è questa bustina Qua Aspettate Questa bustina qua Che potrebbe servire Per fare Dei lavoretti E cose varie Quindi Questo è il contenuto Di tutto Il mio Puff E questa era La panoramica Del Del puff Ora Chiudiamo il puff Andiamo Di sotto Ok Ragazzi Questo è L'angolino Delle mie cose Creative Ve le farò vedere Un po' Alla volta Allora Mi capita davanti La pistola Per sparare Il silicone Che ora Mi è finita Però Ok Mi capita Subito davanti Poi Appunto Ho Questo cucchiaio Che mi serve Per mescolare Gli slime Molto grandi Infatti Come vedete È già usato Ed è tutto Tipo glitterato Sporco Un casino Poi Ho due Forbicine Che mi servono Sempre Mi potrebbero Servire Sempre Se metto a fuoco Magari Poi Ho Qua Ho Le mie Tre Le mie Queste cose Che utilizzo Per colorare Gli slime Ho la tempra Rossa Ho questa qua Giotto Che è tutta glitterata È un rosa fluo Però qua c'è Poca luce Quindi non si vede Molto Se provo a mettere La torcia No non si può Vabbè E questa qua Che è un acrilico Azzurro Di questo azzurro Molto molto fico E infine Questo qua Che non so se In realtà È un esperimento Servirebbe Per colorare i capelli È praticamente Un coso in stick Adesso vi faccio vedere È un coso in stick Praticamente Servirebbe Per colorare i capelli Ce l'ho anche rosa Si viola Perché Da piccola Mi piacciono Sti robi E quindi Però adesso Non li uso più E quindi Non so dove metterli E speriamo Che si può Si può utilizzare Per colorare lo slime Poi ci vedremo Comunque Poi abbiamo Questi bicchierini qua Che potrebbero Sempre far comodo Poi ho Questi Questa scatola Di color Colori giotto Che sono Ovviamente utili Che non ho mai usato Sinceramente Raga Perché non penso Che lo utilizzerò Per scuola Poi Ok Poi ci sono Dei glitter Qua Che non so Perché stanno qua Ora ragazzi Spostiamo tutto Perché qua ci sono Proprio le vere E proprie cose Che servono Per fare Di slime Allora Iniziamo da qua Tonico Un tonico Senza Alcol Questo qua È quello che uso io Poi va bene Poi L'acqua Una bottiglietta D'acqua Perché ci sono Certi slime Che ne hanno bisogno La mousse Per capelli Poi Una lozione Corpo Che non mi piace Quindi la utilizzo Per fare gli slime Poi c'è La schiuma Da barba Questa qua Il detestivo Che voi sapete Che io utilizzo Il general Ma quando mi finirà Il general Non so Cosa potrò fare Questo qua C'è un bagno schiuma Un altro bagno schiuma E un shampoo Super 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 Addensato E infine Questo qua Che è un sapone Liquido Per le mani Che utilizzo Anche per gli slime Perché Super 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 Già Omogeneo Quindi Ok Ok ragazzi Il video si conclude qua Spero che vi sia piaciuto Se è così Lasciate tanti polliciati in su E ora Prima di continuare Con la mia auto Andiamo a salutare La gigante Allora Francesca De Luca Un bacione Francesca Aurora Pesci In realtà si chiama Viola E devo salutare Pure il suo fratellino Francesco Quindi Un bacione Gior e Giorgia Saccottelli Un bacione anche a te Se anche tu vuoi Salutare nel prossimo video Ti basterà commentare qua sotto O mettere Likes Ciao A mettere Un like Sotto i miei post Di Instagram E vi restate Tornato nel prossimo video Quindi nulla ragazzi Volevo anche dirvi Semplicemente una cosa Che le live Sono state annullate Ma saranno rimandate A quest'estate Quindi scusatemi Però le live In cui vi avevo detto Nel video Non Non ci saranno più Quindi scusate Però Non le posso più fare Perché non ho più tempo Devo fare Cose varie Quindi nulla ragazzi Vi mando Un bacione Iscrivetevi al canale Se non siete ancora iscritti Commentatevi sotto Con i video Che vorreste vedere In questo canale E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao Un bacio